E' arrivata in fretta la risposta da parte del provveditore regionale alla richiesta del rappresentante sindacale Sinappe, Raffaele Tutto lo Mondo, di inviare al carcere di Biella nuovo personale, trasferire i detenuti facinorosi e sostituire i funzionari trasferiti. Si ribadisce, si leggeva nella lettera di Tutto lo Mondo, la carenza di personale in particolare nel ruolo sotto ufficiali e si rammenta come l'istituto sia presente un sostituto commissario ed un solo sovrintendente. La sorveglianza generale, ancora scriveva, viene affidata agli assistenti pur non avendo questi alcune esperienze in proposito. La popolazione detenuta, probabilmente conscia di questo stato di cose, si rende autrice di continui eventi critici, violando regole e creando continuo scompiglio in istituto. Ed è dunque Rita Russo, provveditore regionale, a scrivere che alla richiesta di trasferimento da parte della direzione di 15 detenuti, 12 sono stati già collocati in altre strutture. Uno risulta prossimo alla fine pena. Per i restanti due c'è stata richiesta l'assegnazione extra distretto alla competente articolazione di perdementale. Per quanto ancora riguarda le problematiche relative alla carenza di personale, è sempre il provveditore regionale a comunicare che sono stati inviati una dirigente di polizia penitenziaria e una sovrintendente. Inoltre è già stato disposto l'invio di un ispettore e un altro sovrintendente. Inoltre è già stato disposto l'assegnazione extra distruttore e un altro sovrintendente.